Grazie a tutti. Volevo ringraziare gli amici di Leonida che mi hanno qui chiamato a Marzala. Ringrazio tutti voi di essere qui venuti a sentirci. Per me è particolarmente importante parlare a Marzala perché Marzala fu l'ultima procura che resta mio fratello. La procura in cui Paolo restò per tanto tempo, una procura in cui durante la quale il cui mandato fu anche progettato uno degli attentati che avrebbero dovuto essere portati contro lui, da quello che è veramente uno dei pochi pentiti in Italia, da Vincenzo Calcara che era della famiglia dei Messina Denaro che poi si pentì e veramente cambiò tutta la sua maniera di vedere i valori, quelli che lui prima erano i valori, divennero i disvalori e viceversa. E quindi una città dove mio fratello è stato procuratore, una città particolarmente a cui io sono particolarmente legato, a cui fu l'ultima procura che resse. Anche se oggi purtroppo quella procura è retta da una persona che secondo me non è degna di reggere il trailer in quell'intervista, no, in quella lezione che fece a dei ragazzi in un liceo, era una scuola del nord dove Paolo veniva spesso a parlare. Paolo parlava dei politici che spesso vengono indagati e che poi magari sui quali non si riescono, non ci sono prove, degli elementi probatori sufficienti per poterli condannare. Però quello che diceva Paolo è quando esistono dei fondati sospetti su una persona, su un politico che sia in qualche maniera vicino alla mafia, vicino alla criminalità organizzata, dice noi spesso, noi giudici, noi magistrati, poi non riusciamo a trovare le prove, però ci sono degli elementi in ogni caso molto forti, anche se poi non sono sufficienti le prove per poterli portare davanti a un processo. Dice però in ogni caso a quel punto, visto che quei politici sicuramente sono politici che su quei sospetti ci sono, che i sospetti sono in parte provati, dovrebbe essere poi gli stessi partiti a fare pulizia al loro interno e ad impedire che poi questi politici vengano ancora portati a sedere in Parlamento. Questa stessa cosa si può dire per la magistratura. Allora, esiste un giudice, si chiama il giudice Carnevale, quello che veniva chiamato ai tempi l'ammazza sentenze, che annullò più di 500 processi contro la criminalità organizzata e fu proprio quando lui, grazie a Falcone che introdusse il criterio della rotazione nelle sezioni della Cassazione che dovevano esaminare i processi di mafia. Quando Falcone riuscì a far introdurre, grazie al fatto che lavorava al Ministero della Giustizia, questo nuovo criterio per cui Carnevale non presiedette più la sezione che giudicava, in particolare i grandi processi di mafia di Palermo, quelli tenuti portati avanti al pulante mafia per cui erano stati condannati e messi alla sbarra e condannati all'ergastolo tanti capi della criminalità organizzata, quando, grazie a questo fatto che Carnevale non poté più presiedere quella sezione, quei processi non poterono essere annullati e quindi gli ergastoli furono condannati, deviennero definitivi, fu da quello che nacque poi la reazione della mafia che portò alle stragi del 92, portò all'uccisione di Salvo Lima, portò all'uccisione di uno dei Salvo, portò al fatto che la criminalità organizzata, vedendo che i vecchi referenti politici, cioè la democrazia cristiana, il partito socialista, non potevano più assicurargli l'impunità, allora portarono un attacco frontale al cuore dello Stato e nel contempo misero in piedi quella che fu l'opera che portò al cambio di referenti politici, portò addirittura alla nascita di nuovi partiti politici e portò alla fine a quella che è la Seconda Repubblica di oggi, perché è la Seconda Repubblica di oggi, la Seconda Repubblica, questa Repubblica nasce proprio dal sangue di quelle stragi, questa Repubblica è fondata sul sangue di quelle stragi. Oggi il giudice Carnevale, piuttosto che la magistratura aver fatto pulizia al proprio interno, perché il giudice Carnevale era stato prima sospeso dalle sue funzioni, era stato radiato dalla magistratura, ma poi fu riaccolto quando nel processo di appello non poterono essere fatte valere certe prove, perché le prove che erano state portate contro Carnevale nel fatto che lui in Camera di Consiglio aveva praticamente spinto, convinto ad altri giudici, obbligato quasi altri giudici a votare in una certa maniera, componenti della stessa sezione della Corte di Cassazione. Questi giudici testimoniarono che questo era successo, questo fatto, e queste prove nel primo processo erano state accettate e di conseguenza il giudice Carnevale era stato condannato. Nel processo di secondo grado successivo venne usato questo escamotaggio per annullare queste prove. Si disse che quello che succede in Camera di Consiglio è segreto e di conseguenza non possono essere adoperate delle cose dette in Camera di Consiglio per condannare un giudice, non potevano essere usati per condannare Carnevale. Di conseguenza Carnevale fu reintegrato nelle proprie funzioni e addirittura adesso gli è stata fatta una legge tale che permetterà probabilmente ancora una volta Carnevale a presiedere la quino sezione della Corte di Cassazione all'età di 83 anni, cioè quanto gli altri giudici dovrebbero essere già in pensione. E questo a mio avviso viene fatto giusto nel momento, con una legge ad persona, una legge fatta apposta per lui, giusto nel momento in cui probabilmente si dovrà arrivare alla revisione di certi processi, per esempio anche grazie alle rivelazioni di Spatuzzo, e quindi a quel punto Carnevale potrà di nuovo fare il bello e il cattivo tempo come faceva prima. Quindi il CSM avrebbe dovuto fare pulizia all'interno della magistratura e anche dopo il fatto che il Carnevale era stato riammesso dal ruolo della magistratura non avrebbe dovuto far sì che adesso Carnevale è di nuovo praticamente nel posto in cui era prima e sarà nel posto in cui era prima. La magistratura avrebbe dovuto fare pulizia al proprio interno alla stessa maniera con cui la magistratura avrebbe dovuto fare pulizia al loro interno non permettendo al giudice di Pisa di venire a reggere la procura di Marsala che è assolutamente un ignominia il fatto che oggi una persona che è stata sospettata di essere il corvo di Palermo, di scrivere delle lettere, di aver scritto delle lettere anonime dove sosteneva che Falcone aveva utilizzato contorno per fare uccidere quelli della famiglia Irina. Cioè una persona che è stata sospettata di questo, ma non solo che è stata sospettata, nel processo di primo grado a di Pisa, di Pisa era stato condannato perché era stato utilizzato il fatto che un'impronta su quella, sulla lettera del corvo che era pervenuta, una lettera che tra l'altro credo che fosse su carta intestata dal Ministero della Giustizia o del Ministero dell'Interno, conteneva una sua impronta e l'impronta era stata riconosciuta come impronta di di Pisa. Nel processo di secondo grado non si è potuta adoperare questa prova perché è stato detto che era stata prelevata con metodi non canonici. Nel senso, praticamente, se ben ricordi, era stata SICA che l'aveva prelevata offrendo una tazza di caffè al giudice e poi in questa maniera si era potuto identificare visto che altrimenti il di Pisa avrebbe dovuto volontariamente dare la propria impronta cosa che non aveva fatta.